Musica Buon pomeriggio amici ascoltatori e bentrovati da Carlo Bellotti al Trastevere Stadium in Roma 23esima giornata di Serie D, Girone F, si affrontano le prime due della classe sarà battaglia tra Trastevere e Re Canatese La direzione, Trastevere in possesso adesso, Monni per Proia, si è allargato Corsetti questa volta in posizione regolare, ingresso in area di rigore, Corsetti, la sposta sul Mancino poi calcia Corsetti, alto sulla traversa, si scatena Minicucci, dentro per sbaffo ancora il capitano che allarga tutto, Somma, il cross deviato da Laurenzi scontro Proia, Somma, poi finisce giù, attenzione si continua, Sopranzetti arriva il cross che attraversa tutta l'area, poi pallone lì, sbaffo rovesciata Semprini para, che la chiama a gran voce, la fa sua e poi mette in movimento Sopranzetti testa alta per il numero 4, poi attenzione, rimane Giurbietis, protesta tutta l'area canatese l'arbitro va a parlare col guardialine undicesimo minuto, cartellino rosso per Simone Monni a sinistra qua Quarelli, si fa vedere, finta il cross, torna da Giampaolo che vuole calciare, Giampaolo calcia! Sopranzetti, largo somma si fa vedere Minicucci, vuole andare al cross, lo mette Minicucci, sbaffo a terra poi arriva il tiro e la rete del vantaggio della re canatese assegno Matteo Minnozzi pallone ancora per il numero 8, che è anche il miglior marcatore del Trastevere Giordani, Corsetti la spizza di testa ad attribuirsi questa rimessa intanto il pallone, alto in area di rigore anticipo su Corsetti Crescenzo in area doppia deviazione poi Corsetti! ma si alza la bandierina cerca di arrivare su Marafini poi il pallone profondo sbaffo lo alza Minicucci si impegna passa davanti a Laurenzi che forse scivola poi lo scontro arriva il fischio calcio di rigore in favore della re canatese adesso ancora qualche parola fischia il direttore di gara parte sbaffo Semprini intuisce ma è gol quindicesima rete per il numero 10 della re canatese e 2 a 0 il punteggio calciare doppia deviazione e allora sbaffo poi Minnozzi lancio lungo attenzione a Minicucci è molto veloce il numero 7 va a sfidare Laurenzi ancora uno contro uno di Minicucci che poi trova il passaggio per Raffan Raparo il 3 a 0 della re canatese con la firma di Marco Raparo pallone all'indietro da un'occhiata al cronometro del direttore di gara e fischia tre volte festeggia la capolista festeggia la re canatese di mister Pesaresi che si impone con un netto 3 a 0 qui al Trastevere Stadium che si impone